Per l'elezione dei 16 consiglieri provinciali si voterà domenica 3 febbraio. Il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ha firmato il decreto per la convocazione delle elezioni che porteranno al rinnovo del consiglio provinciale. Il termine entro il quale presentare le liste è fissato al prossimo 13 gennaio. Ogni lista potrà essere composta da un massimo di 16 nomi ad un minimo di 10 e dovrà essere supportata dalle firme del 15% degli aventi diritto al voto. Non sono elezioni dirette, consiglieri provinciali non saranno scelti dai cittadini ma da consiglieri comunali e sindaci in carica. Per la prima volta si voterà con il sistema delle quote rosa. Il 40% dei posti sarà riservato ai candidati di sesso femminile, anche se ciascuno degli elettori potrà esprimere un'unica preferenza e nulla doppia di genere come avviene per altre elezioni. Sono iniziate le manovre per definire i candidati che andranno ad occupare 16 posti tra maggioranza e opposizione disponibili a Palazzo Sant'Agostino. Potranno essere candidati sindaci e consiglieri comunali. In fermento dunque i partiti politici per la composizione delle liste elettorali. Nel centro-destra si parla della formazione di tre liste, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Non si esclude la formazione di una lista moderata capeggiata dall'Udc. Nel centro-sinistra invece, oltre al Partito Democratico, sembra ci sarà la lista civica deluchiana Campania Libera. Nel centro-sinistra invece, la parla di l'Università Portrò ma mai